Io credo che il giudice abbia valutato soprattutto la sostanza per quanto riguarda i fatti contestati. Credo che abbia dato maggiore rilevanza all'azione, alla mobilità della stessa, all'amicizia che aveva il nostro cliente con questo signore che purtroppo effettivamente è stato dimostrato che faceva uso terapeutico di questa sostanza stupefacente. Nessuna condanna si invece alla messa in approva. Una mano leggera dunque quella della giudice del Tribunale di Arezzo nei confronti di Marco, l'amico di Walter De Benedetto, l'aretino affetto da una grave forma di artrite reumatoide che in casa aveva allestito una serra di cannabis utilizzata da lui a scopo terapeutico per allenire almeno in parte i forti dolori con cui è costretto a convivere da oltre 30 anni. Marco, 42enne, aretino, era stato sorpreso dai carabinieri mentre stava innaffiando varie piante di marijuana che avrebbero reso in tutto circa 25 chili di sostanza stupefacente. Inevitabile a quel punto l'arresto anche se era tornato praticamente subito libero. Oggi il processo... Il giudice, nonostante l'opposizione del Pubblico Ministero, ha accettato il fatto di poter derubricare il reato nella sua versione più lieve, ovvero nel quinto comma, di tal che è stato possibile chiedere ed essere ammessi alla prova. Quindi se il nostro cliente, una volta predisposto il programma di volontariato, di riparazione del danno, riuscirà appunto ad ottemperare al medesimo, a questo punto potrà ottenere una sentenza di assoluzione. Il 42enne svolgerà così un'attività di volontariato che dovrà essere valutata e concordata assieme al giudice. Vorrebbe farlo presso l'Empam, chiaramente starà a vedere se l'Empam avrà disponibilità e ricordiamoci che è un ente convenzionato con il Tribunale perché solo questa attività può essere fatta attraverso enti convenzionati.